Ciao Daniel, complimenti per questa vittoria, 1-0 importante, gol importante, diciamo che tu segni solo gol importanti perché al di là della scorsa stagione che hai fatto bene, ti sei fatto notare bene nella regione Lazio hai iniziato bene anche con l'Uni Pomezia, hai segnato subito, hai timbrato il cartellino in questo ritorno a Pomezia e hai segnato anche il gol importante che regala i primi tre punti a Lazio come lo vedi questo gruppo squadra in questa prima parte di torneo? Guarda, noi ci siamo visti per tre volte, abbiamo fatto tre mini-raduni in una giornata poi ieri siamo arrivati qui, un gruppo ragazzi fantastici veramente, dove abbiamo riso forse da quando siamo arrivati fino a stamattina alle due e mezza prima di iniziare, un gruppo veramente bello, se sta bene sono contento comunque alla fine dovevi stare una settimana insieme, di fare un torneo importante quindi è bello sì Li conosci da poco però Daniele non lo conosci, pochissimo, ecco siete compagni all'Uni Pomezia lì è tanto così dal gol del 2-0, cosa ti è mancato per fare quella doppietta? Era molto difficile perché c'era il portiere in uscita, posizione abbastanza defilata sei un po' ramaricato oppure sei sicuro che non potevi far di più? No, no, sicuramente di più, sempre di più, però diciamo un po' do colpa al campo, un po' colpa a me forse dovevo calciare prima, però va bene così, nel senso siamo contenti, l'importante era pure vincere anche se segnava il portiere, va bene, andava bene uguale diciamo che i compagni tra tutte le stagioni che facciamo ci conosciamo tutti poi ho giocato anche altri anni con alcuni miei compagni, quest'anno ho la fortuna di giocare con Peppe sono molto contento Il fattore chiave determinante per magari, che non so, garantire il passaggio del turno quale può essere all'interno di questa squadra? Ma sempre il sorriso perché il calcio è allegria, quindi secondo me basta solo essere proprio veramente contenti e felici e affrontare le partite con lo spirito giusto come abbiamo fatto oggi, abbiamo dimostrato che se perdevamo, pareggiamo, ci stava stretto quindi alla fine abbiamo vinto perché l'abbiamo meritato, l'abbiamo voluto Perfetto, grazie Daniel Grazie a tutti Grazie a tutti